E' sopportabile passare per il partito dei ladri, ma essere anche quello dell'Andrangheta proprio no. Lo spiffero che giunge da Palazzo Grazioli riferisce a questo Berlusconi pensiero sulle ultime vicende lombarde. Un commento e se vogliamo anche un indirizzo per il futuro che va decisamente al di là del Roberto siamo con te pronunciato privatamente nell'incontro di ieri mattina. Un auspicio del tipo l'era Formigoni è finita e quello che è successo con lo Polverini non si dovrà ripetere. Facile a dirsi, meno a farsi visto che l'accordo parla di azzeramento della Giunta e data delle regionali invariata primavera 2015. E se nel frattempo giungesse qualche brutta nuova dalla Procura? Ecco perché Berlusconi avrebbe aggiunto non si può andare avanti così per un altro anno e mezzo. La soluzione, il trio Formigoni, Maroni e Alfano, l'avrebbe anche individuata, cioè la candidatura al Parlamento in primavera per il governatore. Ma il vecchio leader del PDL non sarebbe d'accordo neppure su questa concessione. Come dire, potremmo essere agli inizi, Formigoni non può resistere all'attacco qui e sottoposto e quindi se deve affondare lo farà da solo. Dunque tutto deciso in regione ma nulla di certo, visto che la Lega preferirebbe il voto in aprile, ma con quale legge elettorale non si sa, pur se di una cosa sono tutti d'accordo, l'abolizione del listino bloccato. E per votare chi? Le voci sempre più nitide indicano due candidati che confermano la voglia di rinnovamento. Da una parte il due volte sindaco di Milano Gabriele Albertini, dall'altra il già una volta presidente della regione Lombardia ed attuale assessore comunale al bilancio Bruno Tabacci.